Allora ragazzi, ho preparato questo tutorial per aiutarvi un pochettino a utilizzare presentazioni e soprattutto realizzare la linea del tempo della vostra famiglia e poi ci servirà per la linea del tempo dei fatti storici che andremo a conoscere Allora, intanto siamo sull'applicazione presentazioni di Google nella nostra G Suite di Google vedete, lo riconoscete dal quadratino giallo che si trova in alto a sinistra A fianco al quadratino giallo io ho scritto prova però lo andiamo a personalizzare con la linea del tempo che è il titolo del nostro lavoro Ok? Ci siamo? Poi nella nostra scrivania di presentazioni abbiamo una slide selezionata e ad un certo punto c'è scritto fai clic per aggiungere un titolo noi qui che cosa metteremo? Linea del tempo Come sottotitolo mettiamo realizzata da puntini, puntini, metterete il vostro nome Ok? Poi andiamo a creare un'altra slide Come si crea un'altra slide? Si pigia, cioè si clicca sul tasto più in alto a sinistra e si aggiunge la diapositiva Questa diapositiva è formata da un titolo e da una casella di testo Sul titolo metteremo linea del tempo della mia famiglia Dopodiché abbiamo un'altra casella di testo che per ora non ci serve quindi andiamo a cliccare sulla linea blu e poi clicchiamo il tasto Canch sulla nostra tastiera Vedete che scompare, abbiamo un foglio bianco dove andare a disegnare la linea del tempo Come la disegniamo? Andiamo ad utilizzare questo strumento che si chiama Linea Apro la tendina, seleziono una di queste che mi può servire Secondo voi qual è? La freccia Clicco su freccia e vado a realizzare in orizzontale verso destra, mi raccomando, la nostra freccia Spero di essere precisa Eccola qui Adesso è in forma molto sottile, quindi non la vedete realizzata Per creare lo spessore andiamo sulla casella Spessore Ci clicchiamo Scegliamo uno spessore, 12 potrebbe essere adatto Eccola qui che si realizza la nostra linea Addirittura ragazzi possiamo pure cambiare colore alla linea Perché se andiamo qui sul pennino la possiamo far diventare rossa se ci piace di più Adesso andiamo a mettere i segmenti sulla linea per delimitare l'età dei nostri familiari Sempre andiamo qui su Seleziona Linea A questo punto la freccia non ci serve più, ci basta una linea semplice Clicco su Linea e vado a disegnare dritto possibilmente il primo segmento Eccolo qua, vediamo un po' se riusciamo a tenere la mano ferma Questo segmento sempre piccolino lo possiamo ingrandire e mettere in misura 4 Eccolo qui, il primo segmento sulla linea del tempo Poi come dobbiamo andare a scrivere adesso se la casella di testo l'abbiamo cancellata? Ce l'andiamo a riprendere, vedete qui casella di testo Selezionandola mi posiziono sopra al segmento Ecco qui la casella di testo che posso ingrandire in questi angoletti come voglio Ecco il nostro mouse Clicco due volte dentro la casella di testo e scrivo per esempio 1950 nonno Ok? Vado a sistemare la casella di testo magari un pochino più in alto Per evitare che possa combaciare con il segmento Ok? La stessa cosa la facciamo per tutti gli altri familiari Va bene? Adesso andiamo a vedere un'altra cosa che mi avete chiesto Come posso cambiare lo sfondo? Vedete qui c'è scritto sfondo Posso cambiare il colore, sceglierle Adesso se abbiamo fatto la freccia rossa Facciamo lo sfondo verde diciamo E lo possiamo mettere solo su una slide oppure su tutte le slide Facendo aggiungi tema Poi clicco fine Ecco qui tutte le mie slide saranno verdi Ok? Scelta non bellissima però diciamo che è per rendere l'idea Lo sfondo potete anche mettere un'immagine su scegli immagine Quello che volete Un'altra cosa che può diciamo esservi utile È quello di andare a sperimentare tutti i pulsanti Che trovate qui vedete sulle due barre degli strumenti Andate a provare, a sperimentare Addirittura potete inserire delle immagini Vi dico una cosa di più Se alla fine quando mettete la vostra data di nascita Ci volete inserire la vostra immagine Lo potete fare Guardate qui Cioè inserisci immagini Lo puoi caricare dal computer o cercare dal web Se io faccio cerca dal web Mi si apre Google di lato Quindi oltre a mettere una foto Potete fare tantissime altre cose Quindi vi invito a sperimentare il programma Intanto però esercitiamoci con la linea del tempo Spero che sia tutto chiaro Altrimenti fatemi sapere Alla prossima